Benvenuti nell'estate del relax e del design. Un'estate da godere coccolandoci in pieno benessere, gustandoci il meritato riposo sdraiati al sole o riscoprendo la bellezza della natura. Questa è l'estate del relax e design Chateau D'Axe, con i salti estivi e finanziamenti a interessi zero, per esempio sui divani dalle linee moderne e pulite, o sui living eleganti e modulari, sulle cucine funzionali e su misura, o sulla zona notte ricca di comfort e stile. Scopri tutte le offerte sul sito o nei nostri punti vendita. Chateau D'Axe, la casa secondo te.